Musica 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 Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono Xyuder e ragazzi che dire ragazzi che dire mancano solamente due ore e per sempre non vedremo più la nostra bene amata tanto attesa season 4 ragazzi ne abbiamo veramente fatte tantissime insieme in questi 60 giorni due mesi da quando è cominciata la stagione 4 dove tutti pensavano che c'erano i supereroi ma in realtà c'erano gli alieni ma poi non si capiva la minaccia chimica avrebbe distrutto la mappa ragazzi non è successo quasi nulla di tutto quello che pensavamo così come probabilmente non succederà quasi nulla di tutto quello che ci aspettiamo nella nuova season 5 che oramai ragazzi non ha che da essere messa disponibile indicativamente i server andranno giù come vi dicevo poco fa tra un paio di ore circa verso le 10 del mattino Epic Games ha tweetato che farà di tutto per rendere disponibile il gioco il più velocemente possibile soprattutto anche per perché non vuole lunghe attese da parte dei propri giocatori visto che c'è un hype pazzesco da parte di tutto il mondo per quello che riguarda appunto il nuovo tema della season la nuova mappa della season le nuove città le nuove modalità ragazzi ce ne sono veramente di tutti i colori per tutti i gusti in tutte le salse abbiamo visto come sta veramente cambiando tutto l'universo di fortnite e come si sta trasportando anche nella nostra vita reale oramai avete visto tutti sicuramente quelle immagini che arrivano da ogni parte del mondo dei lama messi chissà da chi forse con un certo senso o forse per sponsorizzare semplicemente il gioco tutti abbiamo visto il durburger quindi il panino gigante che c'era in mezzo nel deserto della california insomma epic game sta facendo di tutto per tirare verso di sé gli ultimi giocatori che ancora non conoscono o non hanno voluto giocare a fortnite in modo da monopolizzare al 100% la propria creazione prima di dirvi ragazzi quello che ho scritto nel titolo ovvero sia come ottenere il pass battaglia della season 5 in maniera completamente gratuita volevo fare una rettifica perché è giusto farla anche se oramai tutti l'avete visto io compreso e mi sono tirato le mazzolate così sulle balette perché ho portato 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 ho sbagliato come un ciula ieri abbiamo fatto il video dell'uscita ufficiale di fortnite perché era scritto tutto in cinese ma il 24 luglio ragazzi è la data di uscita ufficiale di fortnite dai cinciullà quindi in cina ragazzi purtroppo e anche io mi sono rattristato in una maniera incredibile perché ho detto no io stesso android come voi purtroppo il 24 sembra non essere la data di uscita per fortnite android ma la data di uscita per fortnite su pc da parte di tencent là dove c'è il sollevante quindi in cina detto questo ragazzi io voglio fare una cosa per voi voglio darvi la possibilità per chi non può di ottenere il pass battaglia della season 5 per farvi capire cosa vuol dire giocare a fortnite con un pass battaglia cosa vuol dire giocare a fortnite senza pass battaglia e quindi ragazzi mega mega giveaway mega mega contest io ragazzi questa sera in live regalerò tre pass battaglia a tre di voi che ovviamente seguiranno le procedure che troverete nel video che caricherò insieme alla pami alle 19 e 30 per chi conosce ragazzi i miei contest ieri abbiamo fatto il 25 contest quindi ragazzi abbiamo regalato il 25 buono da 10 euro e questa sera invece indipendentemente da quanti iscritti arriviamo da quanti siete da come la situa io vi regalerò tre buoni da 10 euro per ottenere il pass battaglia su fortnite quindi ragazzi che dire non mancate a tutta la live già che è in corso questo video ovviamente l'ho registrato prima dedicata alla stagione 5 la vivremo insieme attimo per attimo siamo qua la stiamo aspettando vedremo che cosa ci riserverà c'ho un hype pazzesco addosso che neanche vi dico e poi mi raccomando grande festa questa sera tre di voi vinceranno un buono per portarsi a casa il pass battaglia beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando un bel like se vi è piaciuto iscrivetevi al canale in tantissimi e vivete insieme a me e insieme ai miei amici in chat tutta la nuova stagione 5 con Xuder e fortnite noi ci vediamo in live ciao noo noo